eh questo è tu sta prendendo il verde infatti fa fumo nero e si sente proprio il rumore guarda se sta venire a sto boschetto qua sotto a sinistra fa una sfiammata poi mannaggia la vacca perché non arrivi gli icotteri? forse non l'hanno fatto intervenire perché pensano di farcela da terra eh mo penso che servono perché vedi questi si fidano del fatto che ci sono tutti questi spiazzi senza alberi però la il problema è un altro ma non c'è nessun biciclete il fuoco? ci stanno la Andrea stanno la stanno i camion ma loro stanno in mezzo a piedi sicuramente a presto a presto a presto a presto Grazie a tutti.